Domani iniziano finalmente queste vaccinazioni, quindi andiamo a coprire tutto il mondo della sanità territoriale in modo tale da garantire l'immunità a chi è in contatto con le persone e con i pazienti. 6.000 operatori sanitari del territorio, sia pubblici che privati, verranno vaccinati nei prossimi giorni. Domani si parte al caffoncello, al momento 501, coloro che hanno aderito sui 756 posti disponibili per la prima giornata. Oggi al via le somministrazioni delle dosi a riese più decimo per 202 persone. Nel fine settimana invece sono attese nella marca le prime fiale di AstraZeneca, che come da indicazioni regionali saranno somministrate al personale dei servizi essenziali. Dalle forze dell'ordine, agli insegnanti, agli autisti del MOM, ai farmacisti, cioè a tutti coloro che ovviamente fanno un servizio pubblico importante. Noi contiamo di farla verso la fine di febbraio in modo tale da poter coprire in tre giornate tutte queste persone. Altro step riguarda gli anziani classe 41. Per loro le vaccinazioni scatteranno dal 18 al 22 febbraio. In attesa poi arrivino ulteriori dosi di Pfizer per vaccinare anche i cittadini della classe 40, un programma vaccinale che va avanti in una situazione epidemiologica che migliora sul fronte contagi e ricoveri. Anche a livello di ricoveri ospedalieri manca solo una persona per arrivare in F3, cioè in fascia blu, fascia di garanzia, dove abbiamo meno di 115 persone ricoverate in tutta l'Ulss.